Decine di sacchi di spazzatura composta da plastica, carta e vetro, centinaia di mozziconi di sigarette e addirittura elettrodomestici arredi abbandonati in strada da diversi giorni. E' quanto hanno raccolto i ragazzi dell'associazione ambientalista Triplace, protagonisti ieri mattina di una nuova azione di pulizia che ha coinvolto questa volta una parte del centro storico di Andria. Riconoscibili dalle loro pettorine e armati come sempre di guanti, buste, pinze telescopiche e tanta buona volontà, i volontari hanno passato al setaccio la zona della parrocchia Sant'Agostino. Vicoli e stradine del suggestivo borgo antico andriese, trasformate in molti casi in vere e proprie discariche a cielo aperto, sono state ripulite dai rifiuti di ogni genere, prodotti dall'inciviltà di qualche cittadino poco sensibile ai temi ambientali. Un'iniziativa portata a termine in collaborazione con i parrocchiani e alcuni residenti del quartiere. A fine giornata sono stati addirittura 15 i sacchi di mondizia raccolti dalle sentinelle dell'ambiente del decoro urbano, di cui 10 piene di rifiuti indifferenziati, 4 di plastica e una di vetro più 3 bottiglie ricolme di mozziconi di sigarette. Uno spettacolo deprimente completato dal ritrovamento di un frigorifero, di una lavatrice e di un divano, abbandonati a detta dei residenti ormai da diverso tempo e che saranno finalmente tolti dalla strada dopo le segnalazioni all'assessorato e all'ambiente del comune di Andria e agli operatori della SIECO Gialplast che hanno dato il loro prezioso contributo alla buona riuscita dell'operazione. L'azione ha visto la partecipazione di più di 30 persone e in poco più di un'ora abbiamo raccolto, riempito 15 sacchi di rifiuti. Sono stati rivenuti anche un divano, un frigorifero e una lavatrice. Ciò che miriamo con le nostre azioni non è sicuramente sostituirci all'attività lavorativa dell'impresa che si occupa di raccolta rifiuti ma è smuovere le coscienze dei nostri concittadini in quanto non è assolutamente normale trovare rifiuti, è una grossa quantità anche di rifiuti abbandonati per le nostre strade. Il prossimo appuntamento sarà per metà del mese prossimo. Seguite le nostre pagine social per sapere di più sia sul prossimo quartiere che sulla prossima azione.